Salvatore Biamonte, per tutti noi frequentatori della buvette di Palazzo Madama, Salvatore era un punto di riferimento, era una persona che non era soltanto disponibile, ma era anche, sai, quelle persone che parlano senza parlare. Io ho avuto molte conferme di notizie che avevo più o meno trovato in Sala Garibaldi o parlando con dei senatori o con dei funzionari, da sguardi che lui mi dava, dagli sguardi che lui mi corrispondeva quando magari andavo lì a pagare il caffè, perché erano in qualche modo delle conferme o delle smentite rispetto a delle convinzioni che, a dei convincimenti che io mi ero creato. Era una presenza molto discreta, era una presenza continua, perché erano almeno 40 o 50 anni addirittura che questo signore Baffuto, all'inizio molto ombroso, però poi se si apriva veramente cortese e simpatico, si registrava appunto questa presenza a Palazzo Madama, aveva attraversato le epoche e aveva, diceva sempre, sono entrato qui che c'era un mondo e rimango qui ancora con un altro mondo. Non ti dirò mai quale è meglio e quale è peggio, però ti posso dire che il mondo è cambiato. Era una persona umile, una persona attaccatissima alla famiglia, i figli di cui parlava spessissimo erano veramente il suo punto di riferimento. Se non sbaglio, uno dei suoi figli, non so se è il maschio o la femmina, è un medico. Lui raccontava questa bravura di suo figlio e di sua figlia, adesso non me lo ricordo di preciso, nel laurearsi velocemente, bene, nell'essere appunto una persona molto clinica. diceva sempre, ha cominciato a studiare me e poi è stato tutto il resto. È una figura che mancherà, perché era un elemento non tanto a cui ci si era abituati, perché alle persone non ci si abitua mai, però era una costante, una presenza, una presenza discreta e intelligente, umile e intelligente, che faceva la buetta del Senato un posto diverso e migliore.